Allora, ciao a tutti amici di Radreco e come potete vedere siamo qui alla mostra del cinema di Venezia nuovo stile, nuovo aspetto, nuovo look è stata gente baza siamo appena usciti dal film di apertura Downsizing di Alexander Payne un film di cui non vi voglio dire tutto subito perché ci sarà la recensione, anzi la video recensione vi posso solo dire che è un film che tratta tanti temi etici, morali ma lo fa sempre con tanta simpatia e tanta allegria e viva Cristo Pazzo, sempre sia lodato Cristo Pazzo bravo anche Mattèmo però, lo sapete che a me Mattèmo, c'è dei problemi però bel film forse non è potente in un film di apertura soprattutto se pensiamo a film precedenti La La Land, Gravity e anche Burma ma perché stiamo facendo questo video? perché vi vogliamo far vedere la gente qua che è già postata stamani mattina quindi andiamo a fare due domande e noi ci vediamo invece in questi giorni per la video recensione Downsizing di Alexander Payne Ciao, mi chiami? Ciao, mi chiamo Marika Da dove vi è? Milano Da Milano, e da quante ore sei qui? Ma pensi di essere arrivata qui verso le 7.8 E perchè sei qui dalle 7.8 Diciamolo Per il padrino Alessandro Mori Allora lei per il padrino Mattèmo, mettiti in un angolo Perchè? Vieni prega Niente Nessuno di te Perchè vieni la bella domanda Non è vero? C'hai i fan di Mattèmo Puoi salutare qualcuno? Per i genitori E tutti quelli che la conoscono Questo un po' Grazie Marika Niente, grazie a voi E stai qua per quanto? Per i genitori Per i genitori Per i genitori Tutti i festival Perchè lei aspetta Alessandro Mori Tutti i giorni Ciao 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 Ciao, come ti chiami? Valentina Ciao Per chi sei qui? Per Mattèmo Ah, li abbiamo trovato una per Mattèmo fantastica Sì Per quanto stai qui? Sono qua dalle 7 di questa mattina Per Mattèmo Esatto Lo rivedo dopo 12 anni Come ti aspetti che sia questo incontro? Questo secondo incontro? Vi dirò ciao Matt Ci rivediamo dopo 12 anni Fantastica Fantastica Cosa ti farei autografare? Ho il libricino con tutti gli autografi E c'è una raccolta lì Ok, quindi non c'è un film in particolare che ti dice Oh mio Dio, devo portarglielo No, no Ho raccolto solo gli autografi degli altri film Siccome mi piacciono più film L'importante è avere la foto E la foto? Quella Se ci riusciamo meglio Quindi Mattèmo se ci stai guardando Lei è qui che ti aspetta Esatto Va bene? Grazie Ti aspetterai anche il giorno in terra Per il film di George Clooney Tu numerai? Sì Venerdì, sabato e domenica Questi sono i veri fan Va bene? Qui abbiamo trovato una fan doc di Mattèmo visto che non si trovava da nessuna parte Lei l'accompagna? Lei si ritrae Ah Mattèmo Lei non è tua fan Va bene? Va bene No, sono la tua fan anche io però Lei è solo di appoggio Esatto Lei è solo di appoggio Allora, noi vi ricordiamo che in questi giorni uscirà la video recensione di Downsizing Sarà Mattèmo qua di nuovo per Sobordico di George Clooney Io intanto vi saluto Un bacione Ciao Ciao